ci risiamo troppi giovani sulla pista da ballo pressati come sardine senza mascherina così la notte di sabato si è conclusa con un provvedimento di chiusura di cinque giorni per due locali della rivera romagnola il biblos di misano adriatico e il matilda di marina di ravenna nonostante i richiami dei dj a ballare distanziati ad indossare le mascherine le foglie di giovani hanno ancora una volta creduto di saltellare in un'estate pre covid venite a controllare qua sono tutti senza mascherina così qualcuno dalla discoteca di misano ha chiamato i carabinieri che giunti sul posto hanno documentato quelle scene e notificato la sanzione al gestore un provvedimento analogo a di recente raggiunto la vicina villa delle rose prima ancora segnalazioni di troppa gente in pista hanno riguardato il coconuts di limini e il samsala di riccione quest'ultimo insieme al papete di milano marittima ha deciso di restare chiuso nel weekend della notte rosa per evitare grane serve il senso civico di gestori e avventori e vanno rispettate le capienze dei locali e l'esortazione del comandante provinciale dei carabinieri di limini giuseppe sportelli gli assembramenti non sono un problema delle discoteche ma di tutti i luoghi potenzialmente affollati commenta il questore di limini francesco de cicco un altro locale sanzionato questa volta per somministrazione di alcoli minori è il singita di marina di ravenna che rischia ora la chiusura da 15 giorni a tre mesi un sabato notte indaffarato per le autorità di pubblica sicurezza a riccione si è intervenuti in uno stabilimento balneare dopo che i gnoti hanno piccato un incendio a un ombrellone pochi metri più in là in piazzale ceccarini i carabinieri sono intervenuti per fermare un gruppo di giovani intenti a salire su un'auto della polizia parcheggiata giovani che alla vista delle sirene sono fuggiti nel mentre in città veniva rapinato un turista modenese da due persone in scooter che gli hanno strappato dal polso un orologio da 70 mila euro grazie a tutti grazie a tutti